In un'epoca in cui i processori di fascia alta erano da 4 core e 8 thread, esisteva questo Xeon da 18 core e 36 thread con un prezzo di lancio di 4100 dollari. Oggi andiamo a parlare dello Xeon E5 2699 V3. Ciao ragazzi e ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Arropazzo. Oggi siamo qui con questo processore Intel Xeon che ben 10 anni fa era la CPU più potente sul mercato anche di fascia enthusiast. Parliamo dello Xeon 2699 V3 da 18 core e 36 thread, processore che come vi ho già detto costava 4000 e passa euro dollari al lancio e che ovviamente non era intesa come una CPU per giocare, quanto più ecco per svolgere carichi di lavoro imponenti, macchine virtuali, insomma tutti quei lavori da server che magari normalmente non ci interessano in modo particolare e che magari anzi ecco avere una CPU con così tanti core soprattutto all'epoca era forse controproducente visto che i giochi erano ottimizzati più che altro per girare su pochi core un pochino più veloci. Infatti ecco questo processore magari se all'epoca non era chissà quanto interessante in realtà per giocare, al giorno d'oggi inizia ad avere un pochino più di senso per il fatto che molti giochi con i loro motori grafici iniziano a sfruttare un po' più di core, in alcuni casi anche 16 core, 16 thread insomma e oltre. Infatti andremo a vedere durante i benchmark che ci sono esempi di titoli ecco che vanno a sfruttare anche tutta questa CPU quindi questo è veramente molto ma molto interessante però prima di continuare col video io come sempre vi invito a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da non perdervi nessun video che uscirà sempre qui sul canale alle due di pomeriggio la domenica. Detto questo vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali telegram di offerte uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi su Amazon e l'altro invece sempre per quanto riguarda Amazon ma per l'usato in entrambi i casi si tratta di offerte su questa piattaforma che ecco ci offre una garanzia, un'assistenza sempre al top quindi mi raccomando passano sempre ottime offerte quindi fate un favore a voi e al vostro portafoglio se vi iscrivete. Infine vi ricordo anche di seguirmi sulle mie pagine Instagram e TikTok così da rimanere sempre aggiornati e andare a vedere tutti i video short che escono magari anche in versione integrale magari quelli un po' più lunghetti che su YouTube vengono tagliati. Ora però direi di riprendere con questo Xeon. Uscito nel 2014 in un periodo in cui i processori di fascia alta erano sieno 4 core poi ovviamente nella fascia i-end desktop si arrivava a 6 core e anche 8 core ecco questa CPU Xeon da 18 core era appunto un caso più unico che raro è stata la prima volta in cui Intel è riuscita a comprimere e compattare così tanti core all'interno di una singola CPU ed effettivamente era qualcosa di impressionante e in realtà anche al giorno d'oggi devo dire vedere una CPU così grande con insomma una dimensione così mastodontica e anche un numero di core che non è scontato ecco è veramente interessante e bello da vedere. Ma non solo di estetica ovviamente ci possiamo accontentare per i nostri test e ovviamente scendendo più nelle specifiche tecniche ci troviamo di fronte a un processore con ripeto 18 core e 36 thread ma con ecco delle frequenze di base di 2,3 GHz quindi ovviamente un pochino più basse rispetto anche ai modelli da meno core ecco che c'erano all'epoca come frequenza di boost teoricamente dovrebbe arrivare fino a 3,6 GHz anche se io vi posso dire almeno dei test che ho eseguito questa frequenza ecco non l'ho mai vista raggiungere neanche da un singolo core con forse sì qualche mod legata al turbo boost unlock mod ecco che vanno a modificare insomma se le applicate andate a modificare il vostro BIOS della vostra scheda madre potreste ecco raggiungere questa frequenza su qualche core ogni tanto però ecco sicuramente non su tutti i core per il fatto che siamo limitati dal TDP di 145 Watt che ecco andate a saturare immediatamente quando applicate una mod del genere e non riuscite ecco ad applicare questa frequenza di 3,6 GHz su tutti i core nel mio caso poi ecco la scheda madre che ho utilizzato che è una ASUS X99 Deluxe non permette ecco la modifica del BIOS magari altre schede madri anche di marca lo permettono però ecco questo modello dell'ASUS in particolare mi sono informato e questa cosa insomma non era possibile mentre ecco le schede madri cinesi dovrebbero essere tutte in grado di applicare questa mod anche se poi lì dovrete fare i conti ecco con le fasi di alimentazione che molto spesso insomma non sono proprio al top quindi per quanto riguarda i test che vedremo la frequenza di boost su tutti i core che almeno sono riuscito a osservare su questa CPU con la mia scheda madre è stata di 2,8 GHz quindi effettivamente un pochino bassina però ripeto abbiamo 18 core 36 thread su architettura Haswell quindi quarta generazione Intel con tutti i set di istruzioni rilevanti anche al giorno d'oggi quindi sia AVX che AVX2 diversamente dallo Xeon X5680 che abbiamo visto qualche settimana fa e vi lascio linkato qua sopra il video questa CPU pur essendo una vecchietta di 10 anni riesce ancora ecco a far partire tutti i titoli tutti i test che andremo a vedere oggi anche se ovviamente qualcosa ecco con delle prestazioni che magari non sono più al top ovviamente per quanto riguarda la memoria cache di livello 3 abbiamo 45 megabyte di smart cache Intel che non sono davvero pochi ovviamente tutti i core devono avere accesso a un po' di memoria quindi è anche giusto che ce ne sia così tanta avendo un quantitativo di core così elevato però ripeto questo ci può essere molto utile soprattutto in giochi che vanno a sfruttare tanti core quindi di conseguenza vanno anche a usufruire di molta cache e per finire con le specifiche tecniche abbiamo il socket su cui possiamo andare a montare questo Xeon e tutti gli Xeon della famiglia V3 abbiamo ovviamente l'LGA 2011-3 che è il socket di Intel della fascia i-end desktop e server dell'anno 2014-15 anzi fino al 2016 con i vari Xeon e i set dell'architettura Broadwell passando alla piattaforma di test che abbiamo utilizzato per fare tutti i benchmark che vedremo fra pochissimo abbiamo come scheda madre, ve l'ho già anticipata la Asus X99 Deluxe scheda madre su socket LGA 2011-3 quindi perfetta per questo tipo di processori abbiamo poi come RAM 32GB in 4 banchi da 8GB DDR4 le HyperX Predator che di base arriverebbero con un profilo XMP a 2800MHz CL14 ma visto che questa CPU supporta RAM mi pare fino a 2133MHz quindi praticamente frequenza base del DDR4 abbiamo impostato ecco sì questa frequenza ma andando ad abbassare tutti i timings secondari infatti abbiamo una CAS Latency di 11 e con timing secondari di 12, 12, 18 e 200 con command rate A1 quindi effettivamente delle DDR4 con latenze molto molto basse considerando anche il fatto che questa CPU e la scheda madre supportano il quad channel vedremo ecco delle prestazioni lato RAM sicuramente rilevanti come dissipatore essendo la piattaforma che utilizzo nel PC da registrazione c'è montato l'Endorphi Navis F280 non RGB che è un dissipatore a liquido da 280mm di radiatore con due ventole da 140mm che mi ha mandato Endorphi ecco per realizzare questa build e che ovviamente ho utilizzato per raffreddare questo processore vi dico le prestazioni sono qualcosa di eccezionale per la rumorosità veramente bassissima e delle temperature poi che raggiungono sia noi 50 gradi sotto carico quindi davvero qualcosa di molto molto interessante e per alimentare il tutto abbiamo un alimentatore da 1000W l'EVGA 1000GQ con certificazione di efficienza 80 Plus Gold ed è semimodulare e infine come scheda video abbiamo l'NVIDIA RTX 3090 in customizzazione dell'EVGA For The Win 3 Ultra e detto questo direi che ora possiamo partire con i benchmark partiamo subito con Cinebench R23 dove qui l'OXeon arriva a 13.595 punti con un single core effettivamente bassino di 669 quindi niente male soprattutto per risultati multicore stessa cosa su Cinebench 2024 che vediamo anzi superare anche le prestazioni di un 5800X Ryzen 7 molto più recente e ripeto il single core comunque rimane molto basso passando ora Blender open data 4.0 lo score combinato è di 226,7 punti quindi niente male e ovviamente i core tutti i 18 core vengono utilizzati a dovere su Blender e BMW demo stessa cosa rendering time di 146,93 secondi ovviamente con una GPU questo tipo di benchmark verrebbe effettuato molto più velocemente ma qui testiamo un processore quindi vediamo questi risultati su 7-Zip anche i risultati di compressione dei compressioni sono ottimi e questo ecco si vede per il fatto anche qui che i 18 core e 36 thread vanno utilizzati a pieno su Geekbench multicore 8996 punti single core 979 quindi anche qui complessivamente buoni risultati su DaVinci Resolveo col Puget Benchmark abbiamo un overall score di 1807 punti quindi anche qua niente male e vediamo sulla destra tutti i risultati nello specifico passiamo ora a Corona Benchmark 1.3 che è effettivamente un benchmark che è influenzato anche dalle prestazioni della RAM e abbiamo un rendering time di 78 secondi quindi anche qua si difende abbastanza bene su Vray 6 lato CPU abbiamo un punteggio in v-samples di 13123 quindi pure qui effettivamente ottime prestazioni per questo Xeon di 10 anni fa su Control in Full HD e settaggi di Digital Foundry abbiamo un framerate medio di 129,5 fps con un 1% low molto molto alto di 78,8 quindi abbiamo effettivamente un'esperienza ad alto refresh rate direi niente niente male su Unawake 2 invece in Full HD e DLSS Quality con settaggi sempre di Digital Foundry abbiamo un average di 103 fps con un 1% low di 76 è praticamente il limite della scheda video in realtà potrebbe arrivare a 115 fps ma non tanto di più quindi anche qua direi niente male per questo processore su Death Stranding in Full HD e settaggi maxati altro titolo con ottimi risultati e vediamo anzi un utilizzo su tutti i core della CPU questa è veramente tanta roba e abbiamo ottimi risultati di 120 fps 1% low di 100 fps Fortnite capitolo 5 stagione 2 testato in Full HD e settaggi medi nella modalità Rissa Squadre ci restituisce un frame rate medio di 141,1 fps con un 1% low di 54 effettivamente un pochino bassino ma è dovuto anche effettivamente a questa modalità molto pesante lato CPU però comunque ecco abbiamo un buon frame rate se consideriamo la frequenza a cui gira questo processore e quanti anni ha su God of War Full HD e settaggi alti abbiamo un frame rate medio di 133 fps con un 1% low di 102 quindi qui abbiamo effettivamente un altro gioco in cui comunque riusciamo ad avere un'esperienza ad alto refresh rate quindi veramente tanta roba e su Cyberpunk in Full HD e settaggi di hardware unboxed con densità della popolazione al massimo nell'area più pesante del gioco arriviamo a fare 75 fps di media con un 1% low di 54,6 quindi anche qua tanta roba e vediamo l'utilizzo su tutti i core della CPU quindi veramente niente male e passando a The Finals altro titolo che va a sfruttare tutti i core del processore in questo caso in Full HD con settaggi medi anche retracing medio con il DLSS Quality arriviamo a un modesto 76 fps di media e un 1% low di 50 ovviamente qui con una CPU più prestante di nuova generazione riusciremo ad arrivare a prestazioni più elevate però comunque direi che non si difende male questo Xeon e passando a Resident Evil 4 Remake Full HD e priorità alla grafica come impostazioni arriviamo a 113,5 fps quindi anche qui alto titolo AAA che arriva a ottimi risultati e ora direi di passare all'ultimo titolo che è Counter Strike 2 in Full HD settaggi medi senza FSR quindi risoluzione nativa facciamo 180 fps con un 1% low di 84 che non è ovviamente un risultato competitivo però ecco per farci giocare il gioco senza tanti problemi direi che non è male direi ora di passare alle considerazioni finali ed eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark di questo Xeon che direi io sono rimasto contento dalle prestazioni che ha soprattutto in ambiti multicore perché vediamo mantenere un livello di prestazioni molto vicino per esempio a un Ryzen 7 di quinta generazione come un 5800X che è un livello di prestazioni ottimo secondo me in tutte queste applicazioni che vanno a sfruttare ecco tanti core per il fatto che ecco abbiamo una CPU che di base paghiamo una frazione del costo ecco di un Ryzen 7 di quinta gen però ovviamente l'altro lato della medaglia sono le prestazioni in singolo core perché giustamente ecco abbiamo una CPU che ha 10 anni che già all'epoca ecco non aveva delle prestazioni eccellenti sul singolo core quindi ecco se sapete già di andare a utilizzare delle applicazioni che sfruttano pochi core così ecco vi dico subito non andate a prendere una CPU del genere però se il vostro ambito lavorativo o anche di gioco vi permette di sfruttare questa CPU abbastanza comunque di utilizzare quasi tutti i core o anche tutti vi dico secondo me potrebbe essere una valida alternativa perché abbiamo visto delle prestazioni veramente niente male anche in diversi giochi per carità abbiamo un livello di prestazioni che nel senso si se un gioco è ottimizzato abbastanza bene per sfruttare anche tanti core vediamo degli fps comunque anche abbastanza alti in alcuni casi riusciamo anche ad avere delle esperienze di gioco ad alto refresh rate magari per i titoli ancora un po' più pesanti o un po' meno ottimizzati ecco ovviamente saremo più vicini ai 60 fps ecco che comunque non sono male per giocare certo ecco se dovessi prendere questa CPU solo per fare gaming mi sentirei insomma un po' così nel senso che non serve proprio il massimo ecco però se invece la coppiamo anche a degli ambiti di produttività che ecco vanno a sfruttare bene questa CPU vi posso dire secondo me ecco se il budget non è molto elevato ci può ancora stare nel 2024 tutto questo ecco tenendo in considerazione tenendo sempre a mente i prezzi sia di questa piattaforma che delle alternative e adesso ecco ne andiamo a parlare e parlandovi quindi di prezzi di una piattaforma come questa X99 c'è da fare ovviamente una precisazione perché le schede madri attualmente dipende quali andate a prendere perché quella per esempio che io ho un X99 di marca così se la cercate sul mercato ve la vendono anche più di 100 euro anzi in alcuni casi anche ben di più e secondo me ovviamente non ha senso andarne a prendere una se però cerchiamo ecco su Aliexpress o magari anche usate su Ebay sempre modelli cinesi però comunque buoni come le Wananzi anche diverse macchine comunque ci sono tante marche ecco cinesi che fanno queste X99 perfettamente funzionanti ecco le possiamo pagare magari un 70 euro modelli un po' più economici anche 60 già qui abbiamo una buona base effettivamente considerando poi il fatto che la CPU al momento attuale tipo questa la possiamo pagare un 50 60 euro ma al massimo ecco io l'ho vista intorno ai 50 siete fortunati anche un pochino meno oppure volendo possiamo anche andare a prendere uno Xeon un pochino più leggero come il 2697 V3 da 14 core di cui abbiamo visto un video che vi lascio linkato qui in alto nelle schede e quel modello costa ancora meno ecco abbiamo dei processori che come livello di prestazioni sfidano anche dei Ryzen 7 di quinta generazione però costando ecco una frazione la RAM poi ecco la DDR4 ECC che viene supportata da queste X99 diversamente dalle schede madre sull'Aket M4 costa veramente poco perché attualmente anzi l'ho pure comprata su eBay l'ho trovata 30 euro per 32 giga di RAM in doppio banco ECC quindi effettivamente si abbiamo frequenze basse però vi ripeto queste CPU queste frequenze utilizzano quindi considerando il costo delle schede madre non è elevatissimo se prendiamo un modello cinese la RAM che costa effettivamente molto poco e le CPU insomma che quasi finiranno dietro ancora oggi potrebbe essere un'alternativa per chi vuole veramente risparmiare fino all'ultimo euro e quindi posso capire da questo punto di vista soprattutto poi andare su una CPU così potente relativamente alla piattaforma su cui sta quindi sì ovviamente non parliamo di prestazioni da Ryzen 9 però ecco se invece vogliamo andare a prendere una scheda madre una piattaforma M4 consideriamo anche qui un 50-60 euro di scheda madre una CPU insomma che arrivi a queste prestazioni è un pochino più difficile trovarla a prezzi molto bassi io vi dico magari il 3700X il Ryzen 7 di cui anche qui abbiamo visto un video che trovate nel mio canale YouTube ha prestazioni in multicore effettivamente inferiori a questa costa un centinaio di euro però sì poi in singolo core e in gaming è superiore poi abbiamo la questione delle RAM anche lì magari possiamo andare benissimo anche con 16GB in doppio banco che paghiamo una trentina d'euro se vogliamo andare su 32 siamo più sui 60 quindi ecco qui dipende un po' da voi se si tenete particolarmente al gaming e soprattutto qui ecco il grande asterisco se ovviamente avete intenzione poi di fare upgrade nel corso di questi anni ovviamente su HTM 4 è la piattaforma su cui andare se siete sul budget in questo caso vi ripeto l'upgradabilità come vi ho già detto in altri video sempre legati a questa piattaforma ormai è bella che morta detto questo siamo arrivati anche oggi alle conclusioni di questo video io come sempre spero che vi sia piaciuto se è così mi raccomando fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e insomma con un commento su cosa ne pensate di questi Xeon su piattaforma X99 se volete vedere altri modelli all'opera quindi ecco fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti e infine io vi consiglio due video che se non avete visto vi invito a guardare il primo è quello sullo Xeon 2697B3 quindi altra cpu praticamente identica a questa però con 4 core in meno che abbiamo testato qualche mese fa sempre qui sul canale mentre l'altro video che vi consiglio è quello su Ryzen 7 3700X quindi è l'alternativa a questa piattaforma X99 su socket AM4 quindi con un livello di prestazioni praticamente simile in multicore però con un single core più potente e col fattore upgradeabilità detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi